Rischia di esplodere in un'emergenza sociale di portata enorme la questione degli inquilini morosi degli alloggi IACP a cui lente autonomo case popolari ora Arca Sud Salento sta continuando a staccare per pregresse e insolvenze tutti i servizi. La denuncia arriva dal presidente provinciale dell'Associazione Nazionale Amministratore Carlo Mignone ad invocare l'immediato trasferimento delle famiglie morose anche a costo del ricorso alle forze dell'ordine in altre strutture ricettive con regione e comuni a garantire i servizi minimi vitali l'unico modo a suo dire di evitare una guerra tra chi è in regola e costretto a pagare per colpe altrui. Io spero che questa provocazione porti comunque qualcuno in alto a svegliarsi bisogna dare la possibilità anche a chi non pagna di avere una casa perché mi sembra che la Costituzione questo lo garantisca con il minimo dei servizi essenziali garantiti evidentemente dagli enti perché chi non ha soldi non possiamo certo spingerli a rubare per andare a pagare le vuote condominiali. Le situazioni più critiche a Casarano, Carmiano, Cavallino e Nardò dove sono centinaia le famiglie da settimane senza acqua e luce. Una situazione incandescente a rischio per gli stessi amministratori incolpevoli terminali del malcontento. Noi non possiamo essere lasciati soli ad affrontare francamente delle questioni più grandi di noi e sconcertante che non ci siano proposte di alcun tipo da parte dei politici di destra, sinistra e centro.